Corsia 4 per Domenico Fioravanti, il suo più accreditato rivale è il russo Zludnoff, detentore del primato del mondo, poi il canadese Knab, Peterson sud-africano, Ed Moses statunitense, Katajima giapponese, Malek della Repubblica Ceca e lo svizzero Letolf. Sono partiti Domenico Fioranti come al solito non ha una partenza ottima rispetto agli altri, è sempre in condizione di dover recuperare una volta venuto giù dai blocchi di partenza ma dà la sensazione di riuscire a farlo molto bene. Ci avviciniamo alla prima virata dunque verso metà gara, ricordo che Domenico Fioravanti è il campione in carica europeo della specialità e Domenico Fioravanti però è quinto con 28 e 91, primo è lo statunitense Ed Moses nella vasca di ritorno della Novarese che vive a Verona, ci ha abituato però a un'impressionante progressione che sta cercando di attuare in questo momento, dà la sensazione di riuscire a passare Ed Moses. E' una testa a testa, sono praticamente in asse con la nostra posizione e la sensazione è che l'italiano sia leggermente in avanti e che possa avvicinarsi alla medaglia d'oro leggermente avanti, Domenico Fioravanti dovrebbe farcela, può toccare, sta toccando, sta toccando, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, medaglia d'oro, medaglia d'oro dico oro ed è la prima volta che lo si può gridare in italiano ad una gara di nuoto in un'Olimpiade, Sydney 2000, Domenico Fioravanti, una binata che resterà scolpita nella storia dello sport azzurro. Il tempo di Domenico Fioravanti 1.00.46 vale anche il record olimpico, non quello del mondo va bene ma si voleva davvero poi troppo, vale quello olimpico, siamo d'oro, l'Italia ha vinto la prima medaglia d'oro della storia del nuoto e c'è la possibilità di riprovarci con Alessio Boggiatto. Linea allo studio.